Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro, a questo webinar dal titolo Processi di sviluppo e valutazione ambientale, linee guida, format e contenuti. Questo è il quarto incontro sui temi delle procedure autorizzatorie in materia di ambiente, edilizia, rigenerazione urbana e sulle modifiche a queste apportate dal decreto semplificazione. Io sono Norina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato appunto mandato alla Forma EZPA di attuare il progetto stesso. Queste sono le tematiche che sono state trattate nel corso dei webinar e dei seminari realizzati all'interno del progetto, mentre in questa infografica è possibile vedere il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 dicembre 2020. Anche questa infografica riporta appunto il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi appunto per regioni. Quest'ultima infografica invece riporta l'ente di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per regione. Le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020 sono quelle elencate, le scorriamo velocemente insieme, formazione in presenza e a distanza, 126 tra seminari e webinar con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni, centri di competenza regionali per la semplificazione, 7 centri costituiti e attivi, quelli della Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia, affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione, 14 indagini in tema di conferenza di servizi, adozione della modulistica standardizzata e unificata, attuazione del SUAP, autorizzazione unica ambientale e notifica sanitaria e infine reti di esperti con comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Qui vediamo i temi per webinar e focus che sono stati realizzati dai centri di competenza nei mesi di novembre e dicembre 2020. Discordiamo anche questi insieme il procedimento unico all'interno dello sportello unico attività produttive ed edilizia, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi all'attività di impresa e infine norme regionali di semplificazione. Qui vediamo invece i temi dei webinar in programma, norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Questi sono i centri di competenza attivi, pienamente attivi, sono quelli delle regioni Friuli-Venezia-Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. Il progetto fornisce quindi supporto alle amministrazioni regionali proprio per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e questi centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione sia per la gestione di procedure complesse. I principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati sono stati quelli che vedete appunto elencati, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione, quindi manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. Quindi i centri di competenza si sono rivelati negli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Qui vedete la pagina di eventi PA dove è possibile vedere tutte le attività, tutti i webinar e i seminari che sono stati realizzati nell'ambito del progetto, mentre qui è possibile vedere tutti i webinar che sono stati realizzati proprio in materia ambientale a partire dal 25 ottobre 2018 fino al 2 marzo 2021. Veniamo adesso al webinar di oggi. Dopo la mia introduzione lascerò la parola alla dottoressa Giuseppina Liuzzo esperta di semplificazione del Formez PA. Dedicheremo poi come di consueto uno spazio a partire dalle 11.10 circa alle risposte alle vostre domande, alle domande che vorrete porre in chat e alle 11.30 è prevista la chiusura dell'incontro. Questi sono i temi dell'intervento della dottoressa Giuseppina Liuzzo, studi ambientali per le procedure attivabili per gli interventi, progetti per l'autonomia e l'efficienza energetica, linee guida nazionali, fonti energetiche e tecnologie sostenute dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Come vi dicevo potete fare le vostre domande alla relatrice scrivendole in chat e come di consueto questa sessione sarà registrata e la registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro il pomeriggio di oggi sul sito di eventi PA alla pagina dedicata a questo incontro. Prima di lasciare la parola alla dottoressa Giuseppina Liuzzo vorrei ricordarvi per quanto riguarda gli attestati di iscrizione che questi vengono rilasciati a quanti si sono chiaramente iscritti all'evento e hanno seguito il 20% dell'incontro. Gli attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni sempre sul sito di eventi PA alla voce ai miei eventi e sono scaricabili in autonomia. A questo punto chiedo alla dottoressa Giuseppina Liuzzo di attivare il microfono webcam e provvedo a proiettarne le slide. Prego dottoressa Giuseppina Liuzzo. Sì grazie buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi andiamo avanti con gli approfondimenti tematici di alcuni webinar che abbiamo gestito sempre appunto nell'ambito del progetto e che abbiamo focalizzato sia sulla nuova programmazione e quindi su tutti gli interventi passibili di avvio di procedimenti e procedure ambientali che come sapete sono degli endoprocedimenti innescati nei processi amministrativi e nei provvedimenti di autorizzazioni e o concessioni. Ma ci concentreremo sull'approfondimento delle linee guida per gli studi di valutazione di impatto ambientale che abbiamo già affrontato in parte nella loro strutturazione, nei loro obiettivi e nelle finalità principali nel webinar del 16 febbraio. È molto recente il posizionamento assunto dall'Europa e dall'Italia sulle metodologie e le tecniche e le strategie di transizione energetica ma anche transizione ecologica. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo molto intenso, molto complesso ma soprattutto diciamo problematico per le tempistiche e le scadenze che si rendono necessarie dovere appunto assicurare ai fini anche della ripresa del paese per effetto della pandemia e che coinvolgono numerosissimi enti e autorità competenti ma anche grandissima parte di pubblico competente e interessato che farà appunto fornirà i propri contributi per arrivare ai giudizi e ai pareri ambientali. Quindi è una fase molto complessa, ha una tempistica, un cronoprogramma molto preciso e molto dettagliati e di appena ieri appunto la dichiarazione del ministro per la transizione ecologica appunto Cingolani che sollecitava tutte le amministrazioni a concorrere al raggiungimento degli obiettivi sia del piano nazionale di ripresa e resilienza sia di quelli più immediati e inseriti nei PON delle città metropolitane, ci riferiamo al REACT EU, quindi di fare squadra per evitare il disimpegno automatico dei finanziamenti che saranno erogati in una prima battuta entro il 2023 come avvio al regime delle operazioni e in seconda battuta con il recovery fund da rendicontare entro il 2027. Quindi abbiamo dei tempi ma anche degli interventi molto problematici e complessi e in questo momento e soprattutto a fronte degli effetti devastanti della pandemia sul tessuto socio economico del paese nessuno di noi diciamo di della collettività generalizzata ma soprattutto nessun funzionario o tecnico o ente pubblico appunto può non non agevolare la chiusura dei dei procedimenti e quindi i provvedimenti volti all'attuazione degli interventi. Fatta questa premessa come dicevo all'inizio oggi noi svilupperemo due focus abbastanza importanti. Uno è quello relativo all'ulteriore commento e degli ulteriori temi e contenuti delle linee guida contenute appunto nel documento varato da SNPA che abbiamo cominciato diciamo ad affrontare durante il webinar del 16 febbraio. Dopodiché noi abbiamo fatto la volta scorsa o l'ultimo webinar del 2 marzo abbiamo cominciato ad analizzare e a tirar fuori dalla programmazione attiva tutti gli interventi passibili di valutazioni o comunque di pareri ambientali soprattutto è il piano nazionale di ripresa e resilienza che li ha messi tutti quanti insieme. Ma mentre noi dal dato quando ci siamo lasciati noi dal 2 marzo è stata attivata anche una importante consultazione su uno strumento fondamentale della transizione energetica che è il PITESA, il piano per la transizione energetica sostenibile per le aree idonee. Il MITE che è l'autorità procedente e che quindi sarà diciamo destinataria del provvedimento di valutazione ambientale strategica su questa importantissima pianificazione appunto ha varato, ha attivato la procedura di VAS, la troverete al link sta scadendo credo scada domani o dopodomani comunque sono i famosi 60 giorni dalla data della pubblicazione appunto che è avvenuta il 3 marzo, al link che vedete. Il PITESA è uno strumento che si inserisce abbastanza felicemente nei procedimenti e nella normativa volta a raggiungere efficacia per la semplificazione amministrativa. Il PITESA è come altri strumenti di pianificazione semplificata chiamiamola così comunque abbastanza partecipata, le cui decisioni sono affidate a diciamo a una concertazione e quindi al rapporto Stato-Regioni, a un felice rapporto Stato-Regioni, è stato individuato con la legge 11 febbraio 2019 numero 12 e che appunto ha varato disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione sia per le imprese che per la pubblica amministrazione ovviamente siamo assolutamente in reciproca alleanza. E poi è stato anche aggiornato parzialmente ma non ha diciamo dei contenuti diversi o di carattere innovativo il piano nazionale ripresa e resilienza che abbiamo analizzato nel webinar del 2 marzo. Allora perché è molto importante questo piano il piano per la transizione energetica sostenibile le aree idonee è stato individuato appunto a questo articolo 11 ter della legge 11 febbraio 2019 numero 12. In pratica per effettuare una completa e sostenibile transizione verso impianti o sistemi di sfruttamento di risorse che siano appunto meno inquinanti e che provengano da energie rinnovabili non dobbiamo dimenticare che attualmente diciamo la dipendenza e l'efficacia energetica del paese è ancora fidata al fossile. Quindi il piano ha messo insieme intanto per tutte le regioni tutte le istanze attive quindi tutte le ricerche le prospezioni e le coltivazioni per i idrocarburi e gas che sono attive su tutto il territorio nazionale congelandole temporaneamente in attesa appunto della formazione e approvazione di questo piano. In sostanza in questa procedura di consultazione facilitata in qualche modo perché è chiaro si sarebbe dovuto in qualche modo fare prima un vero e proprio piano in realtà è un piano programma affidato alla VAS e quindi in questa diciamo attività di trasparenza e di semplificazione c'è anche una partecipazione molto importante di tutto il pubblico non solo dei soggetti competenti che avrebbero potuto effettivamente riunirsi prima intorno a un tavolo, dibattere, arrivare a una conferenza di pianificazione e solo dopo attivare la procedura di VAS. Invece il piano viene effettivamente formato con tutte le regioni e questo è importante attraverso una consultazione proprio tipicamente ARUS, da Convenzione di ARUS. La Convenzione di ARUS appunto è destinata ad attivare la più ampia partecipazione e consultazione per strumenti di pianificazione e programmazione ambientale aperta e disponibile a vari livelli. Quindi con un articolo è stato possibile all'interno appunto di una legge finalizzata alla semplificazione è stato possibile individuare un piano che non esisteva perché viene appunto individuato dall'articolo 11 ter e attivare in maniera efficace una procedura per la sua approvazione che passi attraverso direttamente la valutazione ambientale strategica. Infatti in questa consultazione le regioni sono chiamate ovviamente a esprimersi sulla idoneità delle aree che già sono assoggettate e che sono già destinate da varie autorizzazioni e provvedimenti alle tre tipologie che sono quella di ricerca, di prospezione, di coltivazione sia per il gas che per gli idrocarburi e la domanda che la VAS, che la consultazione e il piano che si sta strutturando all'interno di questo procedimento è la seguente. Ci dite se questi impianti, queste ricerche, queste coltivazioni e le aree che le accolgono sono idonee secondo alcuni precisi requisiti e vincoli di natura ambientale e paesaggistica o non lo sono più, motivando ovviamente dal punto di vista della idoneità ambientale e paesaggistica o per vincoli anche che derivano da trasformazioni dello stato dell'ambiente che possono essere intervenute e quindi si raccoglie questa consultazione nella sede più idonea per il giudizio ambientale che è la VAS e nel frattempo sono chiaramente sospesi, fatti salvo alcuni procedimenti in corso che poi sono noverati dalle lettere A, B, C e D dell'articolo 4, sono sospesi tutti i procedimenti amministrativi, quelli comprensivi anche di valutazione di impatto ambientale. A tal fine per la consultazione, sempre al link che è contenuto nel rapporto ambientale, è possibile aprire un geoportale del Ministero in questa fase, lo stanno facendo tutte le regioni, anche noi come regione siciliana abbiamo partecipato a questa fase di consultazione e a tendina interrogando il sistema che già ho riferito su appunto Google Map, a tendina si aprono tutti i procedimenti che sono anche in corso queste di valutazione di impatto. Vi renderete conto che molte delle istanze che non sono attive ma che sono state attivate hanno diciamo delle difficoltà ad essere attuate per alcuni vincoli o prescrizioni o richieste fatte durante i procedimenti delle singole procedure di valutazione di impatto ambientale che risultano complessi per la loro attuazione. Quindi questo piano fa una bella fotografia di tutto ciò che i territori e le regioni hanno all'interno sia delle aree marine che delle aree terrestri, hanno attivato in termini permessi di cerca di prospezione e coltivazioni e comprese anche le centrali del gas per esempio. E in più vi sono i procedimenti in corso per i quali possono, siano già in sorta delle criticità. Quindi con la VAS si riesce ad avere un riscontro immediato sostenuto e motivato dalle motivazioni ambientali della VAS e della valutazione di impatto ambientale per arrivare alla decisione cioè se e come questa transizione energetica possa avvenire, cioè a quali condizioni, con quali sistemi, strumenti e tipologie di interventi che siano ancora attive nel campo della ricerca del gas e degli idrocarburi. Quindi effettivamente è un bel risultato dal punto di vista della semplificazione amministrativa, non salta dei passaggi, li razionalizza questi passaggi, poiché la VAS, quindi la valutazione ambientale strategica decorre parallelamente alla formazione del piano, utilizziamo questo principio e questo obiettivo della direttiva comunitaria per decidere direttamente su un piano. Cioè il piano non ha una relazione di piano, è una relazione ambientale, un rapporto ambientale di VAS. È un piano che viene appunto incardinato direttamente all'interno di questo rapporto ambientale che è ancora alla fase preliminare, l'articolo 13,1. Questo rapporto preliminare ambientale quindi contiene la proposta di piano, cioè in un unico documento, quindi in maniera più agevole, più speditiva e più efficace dal punto di vista dei risultati della consultazione. Che tipo di pubblico in questa fase è stato di autorità? Naturalmente questa fase che è la fase di scoping, quindi di giudizio sul rapporto preliminare ambientale e quindi sui contenuti che poi il rapporto ambientale dovrà avere, anche in termini di studi, di analisi e di ulteriori contributi che effettivamente proverranno da tutte le regioni, da tutti i soggetti competenti ambientali coinvolti, appunto è una fase che implica il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale. In questa fase il pubblico interessato in parte, il pubblico generico ancora non si esprimeranno, per quanto la procedura non è secretata diciamo come normalmente avviene, ma è già aperta, quindi c'è una preallerta di contenuti disponibili a tutto il pubblico, compreso il pubblico generico, ma la possibilità a fornire contributi per il rapporto ambientale, contributi quindi anche per il piano, quindi per assumere la decisione ambientale, limitati a un soggetto di competente, a soggetti competenti in materia ambientale che sono elencati puntualmente sempre nella nota di avvio, nella nota legata alla nota di avvio delle consultazioni prodotte dal mite. e quindi poi voi vedrete quello che vi ho appena espresso, appunto si incardina nella fase del comma 1 dell'articolo 13 come fase di appunto scoping e poi appunto al comma 1 sempre, alla lettera appunto 1 del comma 3 c'è scritto la redazione del rapporto ambientale sulla base appunto del rapporto preliminare, come sapete si esprimono l'autorità competente o procedente, la procedente che è il mite con la competente che appunto il mise hanno messo insieme, si sono accordati sui contenuti del rapporto preliminare, lo hanno pubblicato ai soggetti competenti, quindi si aspetta adesso, appunto dopo i 60 giorni della pubblicazione, il contributo di tutti i soggetti competenti. E poi leggerete i richiami normativi del caso. Ci si esprime ovviamente sulla completezza del rapporto ambientale in ordine ai contenuti minimi che sono stati elencati all'allegato 6 alla parte seconda del decreto legislativo 152.06 che vi ho rimesso, qualora abbiate la curiosità anche di prendervi il rapporto ambientale pubblicato sul ministero e verificare la rispondenza a tutti i requisiti. Lo faranno, lo stanno facendo comunque tutti i soggetti chiamati a raccolta. Per il PNRR, chiaramente il governo presieduto dal presidente del Consiglio e i ministri Draghi ha proceduto a verificare, validare e integrare il PNRR che era stato approvato dal precedente governo il 12 gennaio, lo ha mandato alle Camere e ora c'è l'esito appunto del Senato per entro oggi appunto inviarlo alla Commissione Europea. Quindi oggi è la scadenza del nostro piano nazionale di ripresa e resilienza di presentazione alla UE. Dopodiché, fatta questa premessa su gli ulteriori strumenti su cui siamo chiamati a rispondere gli enti e soggetti competenti ma anche il pubblico interessato per questa nuova stagione, il New Deal della sostenibilità e della resilienza dei territori, soprattutto della ripresa a valle, ancora purtroppo lo siamo, ma comunque per la ripresa del paese per effetto del Covid naturalmente per tutte queste attività ci si aspetta oltre alla VAS sugli atti di pianificazione che abbiamo visto, soprattutto ovviamente il PITESAI perché il piano nazionale è una programmazione economica quindi contiene, è un piano programma però fa parte del bilancio e sappiamo benissimo che per gli strumenti connessi al bilancio non c'è l'obbligo della VAS perché ovviamente poi si faranno tutte le valutazioni VAS e via per ogni piano o variante o attività o intervento che dal piano della programmazione economica poi discenderà quindi comunque la programmazione economica è semplicemente la raccolta di tutti gli investimenti che saranno oggetto di valutazione. Quindi con particolare riferimento invece alla VIA abbiamo visto nel piano nazionale ripresa e resilienza la volta scorsa c'erano tantissimi interventi che erano comunque sono da soggettare a VIA secondo gli allegati alla parte seconda del decreto legislativo alcuni di competenza se vi ricordate dello Stato altri di competenza della Regione noi non ci occuperemo in questo momento della verifica di assoggettabilità a VIA quindi del documento che deve essere presentato per la verifica noi stiamo continuando ad analizzare invece i contenuti tematici soprattutto per la transizione energetica sostenibile quindi per fotovoltaici, eolici, geotermia, idrogeno e chi più ne ha più ne metta che invece vanno assoggettati sicuramente a VIA o a 27 bis quindi a PAUR e quindi inseriti in una conferenza di servizi che abbiamo visto essere stata recentemente pure oggetto di compressione dei tempi nella decisione o ad articolo 23 anche per il quale il 120 e gli ultimi aggiornamenti in termini di semplificazione amministrativa hanno previsto alcune compressione dei tempi vi ricordo che i tempi compressi o comprimibili per l'Unione Europea quindi che sono stati compressi hanno riguardato i tempi delle istruttorie delle pubblicazioni degli avvisi, della richiesta di chiarimenti ma mai e poi mai hanno intaccato la tempistica necessaria ai soggetti competenti e al pubblico per le fasi di consultazione perché quella è naturalmente incomprimibile l'Unione Europea nelle varie direttive soprattutto l'ultima via ha detto che oltre un certo termine minimo non si può andare che sono i 30 giorni per le consultazioni e non si dovrebbe andare al di sotto dei 90 per le decisioni quindi al netto di tutti i tempi che naturalmente sono tempi del procedimento necessari la richiesta di integrazione, la prescrizione eccetera quindi il parere, prima del parere conclusivo ci saranno appunto delle fasi in cui gli enti rilasciano in sede anche di conferenze di servizi i pareri intermedi ovviamente dobbiamo tenere conto che le pubbliche amministrazioni sono coinvolte non in queste fasi di osservazione che sono fasi destinate ovviamente a dare contributi ma le fasi che sono collegate agli istruttori e alla decisione che sono compresse quindi è importante che gli studi e che le competenze sia degli sviluppatori che dei valutatori siano tali da garantire i tempi per l'emissione del provvedimento e quindi andiamo avanti con il nostro allegato col quale ce l'avamo lasciati ora noi entriamo nel merito naturalmente di un aspetto molto importante che sono le analisi dello stato dell'ambiente l'altra volta ce l'avamo lasciati con gli obiettivi di questo studio di impatto ambientale naturalmente l'analisi dello stato dell'ambiente che qui viene declinata per tutti i suoi fattori componenti e obiettivi deve essere pertinente alla tipologia di intervento agli effetti ed impatti che probabilmente può rilasciare sul territorio e sulla popolazione ma soprattutto all'ambito locale di riferimento quindi naturalmente le linee guida sono generiche che contengono tutto ovviamente e la capacità dello sviluppatore e del valutatore sta nella loro capacità ma soprattutto in chi sviluppa gli studi a dare le informazioni pertinenti allo stato dell'ambiente attuale in cui si inserisce la proposta di intervento o progetto invariante poi si vede quello che è e ai fattori da considerare in generale però le linee guida sono molto pertinenti per quasi tutto per esempio per quanto riguarda la popolazione e salute umana è ovvio che sono tutti elementi e indicazioni che vanno per tutti gli interventi perché qualsiasi tipologia può rilasciare effetti o impatti sulla popolazione e la salute umana soprattutto sulla salute umana anche la perdita di paesaggio facciamo di quei fattori identitari di un paesaggio potrebbero effettivamente determinare degli squilibri all'interno della popolazione e della salute umana quindi dei disagi che potrebbero al momento non essere tangibili o monetizzabili perché molto spesso si fa anche un'analisi costi-benefici giustamente per taluni progetti ma che invece comportano dei costi poi per la collettività costi per esempio banali del ricorso a cure o a medici quindi quando si perde qualcosa che fa parte dell'equilibrio della persona o della collettività non è detto che si perda per effetto per esempio dell'inquinamento semplicemente dovuto alla pressione sulla viabilità si può perdere anche per una percezione per una dimensione di tipo psicologico per cui a secondo gli interventi bisogna stare attenti a che cosa della popolazione e della salute umana oltre ai dati gli aspetti socio-economici il reperimento sulla mortalità per esempio per la trasportistica è importante l'analisi degli incidenti chiaramente quindi stiamo attenti a cosa va preso del fattore ambientale popolazione e salute umana molto spesso si prendono in considerazione tutti gli elementi un aspetto molto importante introdotto nelle linee guida sia europee che nazionali come vedete per ogni fattore o componente o matrice ambientale presa in considerazione c'è sempre la parte che riguarda l'individuazione degli effetti dovuti al cambiamento climatico sinteticamente per il fattore popolazione ad esempio prendere in considerazione gli impatti che possono essere generati sulla biodiversità e a loro volta generare alterazioni che possano introdurre specie nocive per la salute umana quindi gli effetti dei cambiamenti climatici sono effetti che si dispiegano immediatamente sulle componenti più naturali e quelle che sono la biodiversità e quindi vegetazione flora e fauna e che rientrano nella catena sia alimentare perché possono introdurre delle specie appunto nacive e sia nell'atmosfera quindi introducendo elementi pollinici pollinici che possono determinare l'insorgenza di nuove allergie appunto tra i fattori ambientali anche per il caso in specie che noi abbiamo in qualche modo di più analizzato che sono tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili immaginate l'impatto che possono avere impianti o campi fotovoltaici soprattutto non tanto all'interno dei siti e della rete natura dove la loro realizzazione ovviamente costituisce criterio escludente sia per il decreto ministeriale che abbiamo visto la volta precedente quanto per le norme e le regolamentazioni di molte regioni ma anche a tergo in prossimità o in aree che costituiscono normalmente i corridoi ecologici esistenti che per quanto non siano ancora inserite all'interno di perimetri dei siti e della rete natura costituiscono appunto quei corridoi importanti sia a livello terrestre che a livello aereo pensiamo alle IBA che sono più estese delle zone di protezione speciale pensiamo ai corridoi avifaunistici che poi ve ne racconto uno che è quasi incredibile e si è recentemente formato in Sicilia quindi queste l'occupazione a terra di grandi superfici destinate al fotovoltaico potrebbero incidere sulla rifama con il famoso effetto specchio effetto lago cioè i poveri uccelli pensano di trovare un lago o un sito di approvvigionamento idrico per le loro esistenti invece si schiantano poverini e muoiono ma soprattutto perché si interrompe pure a livello terrestre quindi non solo a livello aereo ma a livello terrestre si fraziona si frammenta un corridoio di collegamento molto importante quindi si interrompe e quindi si altera l'equilibrio della biodiversità quindi sia dal punto di vista dimensionale sia dal punto di vista delle relazioni quindi non si altera solo la struttura quello che viene sempre opposto dai proponenti molto spesso è ma noi mettiamo non stanno più a terra questi pannelli sono sul modello degli inverter quindi sono semplicemente fissi il suolo rimane libero in teoria perché molto spesso c'è un interasse tra le file che non consente la penetrazione della luce che abbassa che comporta quindi questa lombreggiatura dei suoli abbassando ad esempio le temperature quindi che altera in qualche modo sia la struttura che le relazioni quindi stiamo attenti a cosa va preso in considerazione ma soprattutto stiamo attenti i proponenti ma anche noi valutatori quindi gli enti che spesso sono preposti all'analisi e alla valutazione degli impatti stiamo attenti dove ci si muove c'è l'ambiente locale di riferimento e soprattutto stiamo attenti anche a individuare le eventuali alternative di sito perché non molto spesso proprio in riferimento al fattore biodiversità ma tanti fattori non vengono sviluppate le alternative localizzative che abbiamo visto l'altra volta essere fondamentali per l'impegno e l'occupazione dei suoli soprattutto del fotovoltaico quindi le linee guida spingono ad analizzare da questo punto di vista lo scenario di base cioè l'ambiente non è quello di progetto perché comunque le linee guida e gli studi di impatto ambientale devono dare informazioni sullo stato dell'ambiente sia attuale sia potenziale cioè sia in assenza che in presenza di intervento in maniera tale che poi il valutatore riesca a comprendere se ci sono costi e benefici diciamo così di carattere ambientale quindi degli impatti che potrebbero non essere poi mitigati e vabbè poi io vi ho raccolti questi fattori anche se ci sono linee guida perché comunque risalta meglio forse in un contributo piuttosto di andarsi a vedere linee guida quindi ve le leggete con molta calma però quello che vi sto dicendo in sintesi è il risultato che ci si dovrebbe aspettare da questo tipo di approccio di analisi nei confronti della biodiversità ora per quanto riguarda sempre la biodiversità vi volevo fare appunto concentrare l'attenzione su questi tre punti che vedete in rosso le analisi per la caratterizzazione delle aree di interesse conservazionistico quindi dei parchi delle riserve quindi dei siti che già comunque rappresentano fattori escludenti per la localizzazione però per le motivazioni che abbiamo detto quindi a tergo vicino a una certa distanza le analisi vanno sempre fatte va fatta la valutazione di incidenza vedete la lettera C del punto 3 va fatta una valutazione di incidenza cioè voi sapete che le valutazioni di incidenza incardinate alle procedure di via sono sempre previe sono sempre necessarie anche anche se i siti sono all'esterno cioè uno deve comunque lo sviluppatore l'analizzatore il progettista e il valutatore deve guardare vi ricordate il concetto di area vasta che abbiamo introdotto la volta precedente vedendo l'area vasta si rende conto se effettivamente i siti della rete Natura 2000 possono essere interferiti se non lo sono si motiva il non ricorso alla valutazione di incidenza prima ma se si ha il dubbio se la valutazione di incidenza vada fatta lo si fa con la modalità dell'articolo 6,9 cioè prima di avviare tutta la procedura chiedo io proponente all'autorità ambientale che tipo di procedura devo valutare ma se sono già in via e sono e devo capire se devo fare vinca valutazione di incidenza lo faccio io quest'analisi dell'area vasta e decido se vi sono degli elementi tali da attivare anche il solo screening e c'è la verifica di assoggettabilità il suolo il suolo è un'altra delle componenti maggiormente interferite e che rappresentano anche elementi di esclusione o diciamo di prescrizioni particolari sappiamo che il suolo maggiormente interessato al netto di tutte le localizzazioni che non sono consentite sia dal DM che dalla regolamentazione delle regioni è il suolo agricolo è il suolo maggiormente interferito soprattutto dall'eolico dal fotovoltaico ma comunque da tutto quello che anche il Pite sai come vedete questo piano della transizione ha consentito per la localizzazione degli impianti è chiaro che l'agricoltura generica non specializzata quella che non sia soggetta non abbia appunto il DOP o non sia di un certo o irrigua e quella purtroppo l'agricoltura è quella più aggredibile e i suoli agricoli sono quelli più aggredibili anche in questo caso molte ARPA anche l'ARPA Sicilia a nord del vero si è dimostrata abbastanza preoccupata perché una cosa è il concetto di consumo di suolo e sappiamo benissimo che molto spesso la barriera o il passaggio da occupazione a consumo è molto il passo è abbastanza breve cioè non dobbiamo intendere noi il suolo consumato solo perché perde i quattro elementi fondamentali della diciamo della vivacità e della caratteristica di suolo agricolo ma soprattutto perché viene comunque sottratto al concetto di biodiversità agricola cioè perché magari quel suolo agricolo che era faceva il sette side che è apparentemente abbandonato che è apparentemente degradato in realtà sta evolvendo verso un processo di naturalizzazione e quindi concorre all'abbattimento del rischio di desertificazione se quindi non si fa un'analisi abbastanza attenta sia in termini di biodiversità sia in termini di area vasta e di consumo barra occupazione di suolo agricolo noi rischiamo di depauperare suolo che magari è già di suo eroso ha problemi di erosione sta perdendo le sostanze organiche ma soprattutto rischiamo come in aree abbastanza importanti che non sono tutelate dai piani paesaggistici ma che rappresentano componenti paesaggistiche proprio per la loro vocazione agricola all'interno di quel territorio ma anche per la loro morfologia molto spesso le aree agricole intervallate dai calanchi che sono diciamo strutture morfologie tipiche di molti dei nostri paesaggi in realtà poi vengono destinate senza un attento studio di localizzazione che sia preventivo a questi campi fotovoltaici che ne potrebbero impedire i processi naturali e di naturalizzazione quindi la biodiversità il suolo agricolo il suolo in generale il consumo del suolo sono temi intimamente connessi che noi ai quali noi dobbiamo dare una risposta anche in termini di valutazione anche all'interno di questo dell'attuale new deal quindi il cerchio si chiude delle valutazioni che siamo chiamati a dare per localizzare anche i migliori impianti che siano anche orientati alla migliore sostenibilità ambientale quindi la transizione ecologica presuppone anche una forte e robusta valutazione ambientale alla quale siamo chiamati e con i tempi che ci ha ricordato il ministro la geologia poi questi che li leggete un altro elemento importante sono le acque per il Pite è chiaro che è un tema che si sta ragionando all'interno della VAS per problemi di inquinamento delle falde nel caso delle prospezioni delle ricerche e le coltivazioni degli idrogaburi soprattutto le acque marine laddove proprio per gli effetti del cambiamento climatico si stanno popolando di specie nuove che primano di transito che invece si alimentano anche nelle nostre coste o presso le nostre coste avete visto anche i balenotteri i poverini che si sono arenati molto spesso e quindi nuovi santuari nuovi corridoi quindi il tema delle acque è molto importante sia acque interne che acque marine sia per la transizione energetica quanto per la valutazione ovviamente di eventuali effetti di digamento di impermeabilizzazione che potrebbero alterare il normale corso dei reticoli idrografici esistenti quindi non solo un problema di inquinamento chimico ma di alterazione proprio dei reticoli dei bacini idrografici un altro aspetto ovviamente al quale vi invito di riflettere per il quale vi invito a fare opportune riflessioni da prendere in considerazione seriamente è l'aria e il clima cioè è chiaro che gli effetti di qualsiasi investimento anche dal punto di vista degli impatti positivi per esempio sull'aria e sul clima raramente negli studi dei proponenti si ha il piacere di verificare l'impatto positivo non soltanto in perdita ovviamente di dipendenza e di di carbonizzazione quindi sia valutare effettivamente il contributo alla decarbonizzazione questo è molto importante e poi spiegare come il miglioramento del clima rilascia effetti anche sulle altre componenti questo non si fa mai si fanno dei conti relativi appunto alla decarbonizzazione agli effetti per esempio sulle isole di calore perché ci sono questi effetti però non si dispiegano quelli anche positivi sulle altre componenti o negativi cioè intervenire sul clima in maniera con i nuovi investimenti comporta anche dare evidenza degli impatti su tutte le altre componenti che possono godere ovviamente degli effetti benefici e non soltanto eventualmente negativi però non si fa mai questo tipo di analisi invece va fatta e va fatta anche questa valutazione e poi chiudiamo su una cosa molto importante il patrimonio culturale l'impatto sul paesaggio noi sappiamo che sia il decreto ministeriale quanto le osservazioni giustamente presenti e presentate dalle varie subintendenze dai ministeri tutte le procedure attivate sia per i piani che per i progetti diciamo impongono delle prescrizioni delle limitazioni però molto spesso per per normativa per il testo unico sui beni culturali ambientali ma anche per piani paesaggistici sui paesaggi tutelati sui vincoli diretti ora però i piani paesaggistici non hanno zone bianche non ne possono avere articolati per paesaggi locali in breve tutelano anche le componenti del paesaggio quindi laddove la componente non è tra virgolette tutelata in maniera diretta molto spesso ci sono delle compatibilità da andare a valutare ma che non formano un parere espresso dovuto per legge dovuto per il testo unico dalle sovrintendenze molte regioni utilizzando ovviamente la finalità e gli obiettivi e la specificità dei piani paesaggistici hanno come anche in regione siciliana terre e gli impianti che comportano grandi dimensioni e grandi occupazioni di territori e quindi anche a livello paesaggistico possono determinare distonie con il paesaggio e non soltanto con gli obiettivi di tutela ma con il paesaggio e le componenti che sono ovviamente fanno parte del piano e che quindi sono oggetto di norme di regolamenti del piano devono esprimere devono contenere le relazioni paesaggistiche cioè questo tipo di investimenti questo tipo di azioni o progetti per norma e con le semplificazioni che sono state fatte negli anni vanno ad autorizzazione paesaggistica quindi non comportano la redazione di una relazione paesaggistica ma la compilazione di una relazione semplificata laddove invece i piani paesistici in quasi tutta Italia hanno comportato l'innesto di una relazione paesaggistica che non deve essere un surplus ma deve mettere a tutela i territori per la compatibilità paesaggistica non per l'espressione del parere di autorizzazione paesaggistica una volta che scatta l'obbligo della relazione paesaggistica in teoria dovrebbe scattare anche l'onere delle parere di compatibilità cosa che purtroppo non è così tacito in tutte le regioni quindi pochi chi interviene non certo in sostituzione delle sovintendenze giammai ma a diciamo a fare leva positiva per all'interno delle conferenze dei servizi relativamente alle tematiche degli interventi delle grandi dimensioni e quindi alle componenti rilevanti per gli impianti da ferre deve intervenire poi l'autorità ambientale che spesso appunto presiede le conferenze dei servizi ambientali e quindi non è tacito non è tacito che tutti i territori siano tra virgolette tutelati allo stesso modo con riferimento alla compatibilità paesaggistica quindi questo è un tema che deve essere ben approfondito negli studi di impatto nelle relazioni paesaggistiche per meglio aiutare il decisore ma che deve essere supportato da un'analisi della valutazione degli scenari localizzativi ora vado penso di avere preso molto tempo però dico focalizzate molto bene per questo tipo di impiantistica l'attenzione sul paesaggio perché molto spesso il paesaggio non direttamente tutelato è oggetto di negoziazione ciò non dovrebbe avvenire il rumore ovviamente a secondo nei nostri casi nel caso diciamo dei grandi interventi prospettati a meno che non riguardi emissioni in fase di cantiere e costruzione poi per l'esercizio ci potrebbero essere altri effetti sulla salute umana non certo il rumore in questo caso però il rumore potrebbe essere un effetto indotto dall'esercizio di un impianto quindi un sovraccarico delle emissioni per la viabilità anche questo è diciamo un impatto raramente da prendere in considerazione anzi in questo caso probabilmente se non ci sono recettori sensibili nelle prossimità e questo sempre si fa l'area vasta si verifica se ci sono abitazioni al contorno anche abitazioni chiamiamole così coloniche o per la conduzione di fondo che non ci siano recettori di un certo tipo un mantenimento della classe acustica ottimale per i luoghi e questo deve essere dimostrato anche dai piani di classificazione acustica dopodiché ma questo la lascio a voi si passa alla compatibilità quindi si mettono a confronto tutte le analisi effettuate per le componenti ovviamente maggiormente interferite o impattabili ma alla fine ciò che è importante è capire se per l'opera già si possono prevedere misure di attenuazione l'attenuazione è una misura progettuale quindi già all'interno del progetto io stabilisco che è possibile attenuare i disturbi o gli impatti anche temporanei dopodiché l'opera di attenuazione è diciamo una pratica progettuale e di cantiere che segue i CAM e criteri ambientali minimi e che però è già un vantaggio avere preventivato come spesa all'interno del mio computometrico però all'interno dei miei computimetrici e quindi delle mie valutazioni per tutti questi impianti ma comunque in generale per gli studi di impatto ambientale devo anche prevedere le mitigazioni per esempio se io non ho alternative localizzative e mi rendo conto per esempio occupazione di suolo intensiva estesa scusate per i suoli agricoli o suoli di una certa importanza come faccio a mitigare questa cosa? Devo comunque fare un piano di intervento di monitoraggio exante ma sicuramente un piano di intervento in opera andando a risarcire questa occupazione con elementi di coltivazione dei suoli tali da poter mitigare l'eventuale impatto effetto che l'opera imprime per 20 25 30 anni su quei suoli e quindi pensando di agevolare aiutare e dare un rafforzamento a quello che normalmente la natura in qualche modo sta facendo oppure continuare alcune coltivazioni che mi mantengono laddove è possibile come fatto io un breggiamento che abbiamo visto eccetera posso anche continuare le mie coltivazioni e decidere comunque e comunque valutare questo è importante che l'area di progetto non corrisponda quindi l'area di proprietà non corrisponde esattamente all'area di progetto perché poi non mi trovo le aree dove eventualmente mitigare la compensazione è altro elemento quindi molto spesso e questo non è da incoraggiare anzi è da scoraggiare le aree di proprietà e le aree in cui si interviene sono quasi coincidenti e ciò impedisce di attivare le misure di mitigazione quindi nelle fasi di pareri intermedie è anche possibile dire al proponente aspetta l'area di progetto è troppo risicata le mitigazioni non le puoi andare a fare quindi in queste fasi di interlocuzione è possibile intervenire prima di dare una decisione finale magari di eventuale bocciatura e anche in questo ha la sua efficacia la semplificazione diverse poi sono le opere di compensazione laddove non posso mitigare mi faccio sempre un ragionamento di area vasta vedo se c'è un bilanciamento dal punto di vista ambientale della biodiversità del paesaggio e mi impegno a compensare in altre aree d'accordo con le amministrazioni i soggetti in gioco d'accordo con le arpa le sovintendenze il comune i comuni interessati a dire guarda posso fare i miei interventi mitigazioni vado a mitigare 100 ettari te ne sto occupando 600 molto spesso questi sono i grandi numeri e io nel tuo territorio 100 ettari li vado a mitigare la mitigazione può essere anche monetizzata cioè posso darti dei soldi per realizzare alcune cose io mi fermo perché comunque le ho lasciate tutte nelle slide e in qualsiasi momento gli approfondimenti si possono effettivamente fare ho visto che già ci sono delle domande in chat però non so se ce la facciamo ma penso che è meglio che ve le diamo sul sito perché vedo che ci sono temi diciamo di una certa complessità quindi io intanto mi fermo perché penso di avere già preso lo spazio necessario e vediamo intanto di poter rispondere a qualche domanda grazie allora io vedo la prima domanda è stata già avviata la consultazione no ho detto all'inizio che il piano nazionale ripresa e resilienza è una programmazione collegata a una legge di bilancio quindi come tutte le leggi o i programmi anche i piani trennali delle opere pubbliche non ci facciamo noi facciamo finta che il piano trenale delle opere pubbliche del ministero ok perché quello è di fatto nei comuni e nei piani trennali sono pure collegati a leggi di bilancio appunto alle delibere del consiglio comunale sul bilancio in questo è una delibera appunto interministeriali no l'ho detto all'inizio il piano nazionale ripresa e resilienza contiene interventi che poi saranno assoggettati se sono varianti urbanistiche progetti invarianti a VAS se hanno bisogno della valutazione di impatto si farà valutazione di incidenza quindi sicuramente no poi la seconda domanda le alternative localizzative sono purtroppo una chimera no 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 non è così io devo dire che non sono una chimera non sono approfondite non sono fatte molto spesso non c'è una stretta correlazione e integrazione con i piani regionali cioè se io ho dei piani che devono raggiungere una certa autonomia indipendenza energetica e sostenibilità energetica con una deadline ok con una scadenza poi devo raggiungere tot megagiga di efficienza e capacità di indipendenza energetica lo devo fare negli anni ma se ma se al netto delle aree non idonee io devo collocare nelle aree idonee poi devo capire se effettivamente c'è un surplus di offerta quindi dovrebbe essere anche monitorato dai governi questa questa continua domanda di investimento senza limitare ovviamente la libertà di mercato ma se io faccio il conto che con tutte le stanze sto facendo un ragionamento paradossale ma non errato ma se io mi rendo conto che tutte le stanze in qualche modo di qual 2030 mettiamo che sia questo l'orizzonte soddisfano la pianificazione io dovrei coscientemente dire basta dopodiché abbiamo saturato tutto il sistema perché sono convinta che le domande le istanze arriveranno comunque quindi ci dovrebbe essere una sorta di monitoraggio e di governo che insieme all'atto di pianificazione vada monitorando tutte le attività dopodiché è difficile trovarsi tutti i territori perché poi il rischio è quello non li puoi mettere in pendenza non li puoi mettere dove sono le aree rose li metti nelle grandi pianure non credo sia rimasto molto spazio a livello nazionale quindi anche questo diciamo questa consapevolezza va assunta da parte dei governi certo né negli sviluppatori né chi propone né chi valuta può interferire sulla politica energetica sia regionale che nazionale quindi ci dovrebbe essere una forma di cum granosalis cioè di scegliere e discernere e quindi no si può pretendere l'alternativa gli studi diciamo sulla localizzazione bisogna farli ovviamente in un momento in cui non si interrompe diciamo non si eserciti un eccesso di potere nei confronti del proponente non si alteri il procedimento ma in un parere intermedio prima che si vada in conferenza in qualsiasi fase del procedimento ma soprattutto nelle prime fasi che purtroppo sono quelle che sono state contratte in qualche modo intercettare in tempo prima che il procedimento si sviluppi e che naturalmente ci siano anche ulteriori investimenti da parte del proponente intercettare quindi ritorno a dire quello che dico sempre le primissime fasi dei procedimenti sono le più importanti anche di preistruttoria quindi ci vuole personale dedicato e competente per anche avviarla l'istruttoria sì ve li do gli approfondimenti l'analisi costi benefici nell'ambito delle valutazioni di patimentare poi metteremo una bibliografia ovviamente nel sito ci sono negli anni 80 e 90 andavano di moda le VIC le valutazioni di impatto comunitario dove per comunitario non si intende l'Unione Europea ma che accomuna diciamo la valutazione di impatto ambientale a quella costi-benefici all'analisi costi-benefici no ormai sono tutti monetizzabili i beni sono diminuiti i costi-ombra ormai c'è una letteratura scientifica sulle analisi costi-benefici dico anche che potete trovare diciamo facilmente sui siti ricorrendo ovviamente alle pubblicazioni scientifiche e universitarie 4 relativamente al Pite sai com'è possibile raggiungere la notarietà climatica entro 2050 senza definire un termine ultimo entro il quale vietare le autorizzazioni no allora il Pite serve proprio a questo cioè le regioni possono effettivamente non non autorizzare più cioè la logica del Pite è questa nelle more e per la transizione valutate regioni se le aree sono ancora idonee i progetti no il Pite è proprio a questo scopo quindi poi dalla fine della consultazione dalla decisione sul piano si capisce e si comprende anche perché non è proponibile che da oggi in poi tutti non facciamo ricorso ai gas agli idrocarburi dobbiamo liberarcene probabilmente ci abbiamo pensato un po' tardino ci dovevamo pensare noi forse una decina di anni fa a fare questa transizione anche 15 anni fa quando ormai c'era il primo conto energia quindi sapendo quello che ci si aspettava ma siamo un paese che abbiamo una forte dipendenza energetica anche da altri paesi quindi ob torto collo purtroppo ci siamo arrivati come al solito in tempi diciamo in cui le corse sono diciamo in cui il termine corse è il sostantivo più generoso ci dobbiamo provare le regioni hanno questa responsabilità il ministero giustamente dello sviluppo economico ha dato alle regioni e quindi all'organismo stato regioni questa decisione da intraprendere e devo dire è stato un atto di trasparenza e di semplificazione amministrativa notevole quindi aspettiamo negli esiti si potrebbero fare discorsi però in effetti non è facile per l'Italia arrivare a una transizione energetica senza passare da determinate scelte niente io mi diciamo darei la parola alla collega d'Agostini per il resto tutte le risposte le avrete anche per scritto per iscritto le pubblicheremo sul sito eventipa in collegamento con l'evento grazie siamo leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia allora io ringrazio naturalmente la dottoressa Agliuzzo e i partecipanti e intanto vorrei proiettare la slide con i saluti allora dunque vi ricordo che questa sessione appunto è registrata e la registrazione e le slide saranno a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di eventipa naturalmente sulla pagina dedicata dedicata a questo evento nella slide proiettata appunto vedete il link per quanto riguarda appunto come diceva la dottoressa Agliuzzo le vostre le risposte alle vostre domande queste saranno pubblicate nei prossimi giorni sempre sul sito di eventipa e sempre alla pagina dedicata a questo evento ricordo infine gli attestati di iscrizione questi vengono rilasciati come dicevo all'inizio nell'introduzione vengono rilasciati a quanti appunto si sono iscritti all'evento e hanno seguito il 20% e saranno disponibili nei prossimi giorni e scaricabili autonomamente dal sito di eventipa alla voce i miei eventi grazie ancora a tutti e a tutte vi auguro una buona giornata grazie grazie buona giornata a tutti grazie